E' una triste conta di morti all'ospedale Sant'Elia dal 12 di marzo ne sono morti 9. 9 pazienti che non si sono salvati, 9 vite, 9 storie, non numeri ma persone che non ce l'hanno fatta. L'ultimo questa mattina, 54 anni di Serra di Falco, commesso in tribunale, era stato ricoverato il 26 di marzo in terapia intensiva. Troppo alto il numero dei pazienti deceduti rispetto a quello dei guariti, solo 3 clinicamente guariti su 9 decessi. Il numero dei contagi aumenta anche perché sono arrivati i risultati di alcuni tamponi tutti assieme, più 7 in città, complessivamente 10 in tutta la provincia. Sono 105 i pazienti positivi in provincia, 49 in città, 19 a San Cataldo, i ricoverati in malattie effettive sono 8, 32 i nisseni in degenza domiciliare sotto controllo, 3 sono ricoverati in altri ospedali e 3 sono i defunti nisseni. Sono due i sanitari positivi, un'infermiera di Caltanissetta, secondo quanto preso ufficialmente dalla direzione sanitaria, già a casa da 10 giorni perché non stava bene. Lavorava in ufficio addetta alla riprogrammazione degli appuntamenti di medicina nucleare. Sempre secondo fonti ufficiali la donna afferisce a focolai già conosciuti e non ospedalieri, però sono tutti in mappatura i contatti ospedalieri avuti dall'infermiera. Il secondo contagio, un operatore sanitario di 24 anni di Mussomali, sul quale è scoppiato un caso, sono stati seguiti i tamponi a tutti i colleghi che sono risultati negativi. Il direttore generale Alessandro Caltagirone ha fatto chiarezza anche sui dubbi che c'erano rispetto all'immissione in servizio, dato che il giovane proveniva da Trieste. Pare che abbia lavorato solo due giorni e che il tampone non sia stato fatto prima, perché la circolare regionale era stata emanata dopo la sua assunzione.